VENERDI DELLA QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Gli rispose dei giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono un figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò, quindi, nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano, Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui, commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. L'espressione finale del Vangelo di oggi sembra fornirci la chiave di lettura migliore. Infatti di Giovanni non si raccontano miracoli, e tutto quello che ha tentato di fare è umanamente fallito con la sua morte cruenta ad opera di Erode. Eppure, quello che sembrava essere un fallimento non lo è stato davvero. Tutta la vita di Giovanni ha sempre indicato ciò che contava, e paradossalmente anche la sua morte. E forse, pensando proprio alla violenza della morte, torna in auge il tema fondamentale del Vangelo di oggi. Quando non si hanno più ragioni, allora si sceglie la violenza. Era così ai tempi di Gesù, ed è così anche ai nostri giorni. I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quale di esse mi volete lapidare. Finché la violenza ha a che fare con le pietre è facilmente riconoscibile, ma ci sono tantissimi modi di usare la violenza. C'è quella delle parole, ad esempio, o anche quella dei silenzi. Nelle nostre case le parole o i mutismi sono forme di violenza che usiamo quando i nostri dialoghi non riescono ad avere la meglio. Gesù sta tentando di dialogare con i giudei, ma davanti alle evidenze che egli porta, l'unica risposta che riceve è quella della violenza. Sentirsi i possessori della verità delle volte ci arma contro gli altri. La prova vera di essere della verità è la capacità di dialogare sempre e con tutti. E lì, dove il mondo protesta, noi dobbiamo poter offrire invece il martirio del dialogo. Sempre, anche quando sembra inutile, anche quando sembra fallimentare. Perché, alla fine, non importa se quello che di giusto abbiamo fatto ha portato il risultato sperato. A noi il Signore ha chiesto di testimoniarlo e non di convincere il mondo. Quanto sarebbe bello se il mondo ci riconoscesse come cristiani proprio per la nostra capacità di dialogo.